Una settimana di iniziative dedicate ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro prende avvio oggi a Parma e provincia. La conferenza permanente delle pubbliche amministrazioni della prefettura di Parma ha infatti aderito all'iniziativa promossa dall'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, coordinando un fitto programma di appuntamenti che coinvolgono enti pubblici e privati, datori di lavoro, medici competenti, responsabili del servizio prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori e cittadinanza. Insomma tutti gli attori coinvolti nell'impegnativo compito di ridurre gli infortuni, migliorare le condizioni di lavoro con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie professionali e al benessere fisico e psichico dei lavoratori e ancora fare crescere e diffondere nella popolazione la cultura della sicurezza, della responsabilità individuale come fattori di miglioramento e di crescita della comunità. Lo stress da lavoro correlato e il tema proposto quest'anno verrà trattato nel corso di un seminario organizzato dalla prefettura insieme a INAIL Focus Point per l'Italia che si svolgerà il prossimo 22 ottobre alla Camera di Commercio. Sarà l'occasione non solo per analizzare la portata e l'impatto di questa patologia ma anche per fare il punto sul fenomeno infortunistico in provincia. Incontri, prove di evacuazione, approfondimenti avranno luogo in uffici pubblici, istituti scolastici, università, aziende private secondo un programma definito dalla prefettura stessa.